La paura dell'aereo E' annoiato ex divo della discografia Che conduce una vita più che benestante a Dublino La morte del padre torna a New York I due hanno perso i contatti da anni Ma dopo aver letto i diari paterni Cheyenne decide di continuare la ricerca di un criminale nazista Che suo padre ha tentato di trovare per oltre 30 anni Dunque, se si parte dall'amara constatazione Che molta gente sembra aver perso la memoria Per i crimini nazisti Del genocidio ebraico di Mauthausen E di tutti gli orrori della guerra E' bene che il film sia visto Questo precisato Tuttavia è opportuno si dica Che il film non ha capacità tragica Nei profondità di radici Purtroppo Manca nell'operato della regia Un autentico mordente E salvo alcuni momenti Lo spettatore Finisce con l'essere più inerte Per la lentezza del film Che è coinvolto nel dolore della storia D'altronde Vi sono anche vistosi vuoti narrativi E molte oscillazioni formali Sorrentino E' abile a inquadrare Paesaggi e persone Ma così facendo Infatti perde i raccordi del copione Il regista partenopeo Affronta come i fratelli Cohen La frontiera americana E ne esce con qualche ammaccatura E ora vi lascio A Stefano Fallottico Il posto dove alloggia Ove è ubicato il falò Un uomo che vola altissimo E sa ballare in modo bello Osere dire Superlativo Un uomo pagliacesco Burlesco Intraprendente Brillante Sempre agguerrito E Rifulgente In questo mondo deprimente This must be the place Basta adesso Salve amici Fratelli della congrega Ridi pogliaccio Recensirò per voi Qui recensiremo This must be the place Che non è Non corrisponde alla frase pronunciata Da Medina Carnegie Raskol Nel prefinale Dell'episodio finale Della prima stagione Di True Detective Scritto Da Nick Pizzolatto Alla signora Piace la carne Della pizzaiola O Le piace la carne Basta Ora In questo mondo Affetto Afflitto Dalla putredine Ripiegatosi Sulle sue afflizioni Individuali Che ha smarrito La sua purezza E si è ammalato Di vecchiezza Lo stato La condizione Di chi oramai E' spento nell'animo Io Dono voi Letizia Lietezza E me la rido Di gusto Il riso abbonda Sulla bocca Degli stolti Non vi piace Il mio sorrisino Non affievolirete Ne spegnerete Il mio ardore Indomato Indomabile Perché sono un uomo Che sa parlare di cinema Con enorme fervore Sono un uomo Che può Bagnarvi E riscaldarvi Di estremo calore Mentre a voi Presto sarà data L'estremozione Uomini presuntuosi Uomini di panze A dispetto del detto Di poca sostanza Uomini Ricolmi Di arroganza Volete favorire? This must be the place Di Paolo Sorrentino Attualmente Sui nostri grandi schermi Con è stata la mano di Dio The end of God Sei mancino? Io sono ambidestro E giocai a calcio A volte in maniera maldestra A volte Seppi Seppi Qui Ho sfumato colore seppi Seppi Destreggiarmi Di dribbling Alla Digo Armando Maradona Oh madonna Sono stato illuminato Miracolato Da un uomo Che è da lassù Mi ha toccato Essendo io già qui toccato No Mie uomini smaliziati O maliziosi Oramai ripeto Amalati Di malizia Uomini Che non sapete Più cos'è E cosa sia La pulicizia Quel pudore Innocente Che ci rende Creature Rifulgenti Nel firmamento D'un tempo Soppresso In cui Divenimmo Depressi Fummo Repressi Ci deprimemmo La nostra volontà E anche le nostre Volutà Furono annientate Anichilte E giacemmo Nel buio Spettrale Delle nostre angosce Inestirpabili Che lasciate Abbindolarvi Da chi Per l'appunto È depresso E vuole Trasmettervi La sua depressione Uomini Uomini Oramai Imputrediti Imputaniti Rovinati Dal pervertimento Loro Inaudito Mai sanato Ora Avete mai letto Il libro Opinione di un clown? Sean Penn Nato nello stesso Giorno Di Robert De Niro Il 17 agosto Io Porto sfiga Sono uno sfigato Quindi voglio La patente Totoyana Della persona Yellata Perché viene Calunniata Ma I cattivi Vuole smascherare In maniera Inusitata Toccatemi E io Le vostre vite Toccherò Le punirò Vi flagellerò Vi affliggerò Vi seppellirò Nelle colpe Madornali Dei vostri Errori Orrori Commessi Di genocidi Omicidi Bullismi E Cattiverie Crudeltà Che non possono essere perdonate Comunque Dio vi benedica Ecco Sua imitare anche Alberto Sordi Il mio carissimo amico Con cui stiamo allestendo queste collaborazioni Spero possano piacervi Divertirvi Allietarvi Alletarvi Fanatico di Stanley Olio Da noi così italianizzati Stallor Oliver Ordei Non Stallone Olio Fu doppiato Da Alberto Sordi Sei proprio Stupido Vi ho stupito Sono un uomo Un uomo ipnotico Solo un fanotico Stravagante Strampalato Dal passato Disastrato Ancora Disastroso Imbranato A volte piacente Fascinoso Un uomo Ponderoso Ponderoso Che riflette In maniera Vigorosa In merito a questo film Da me recensito Spero In modo Coraggioso Ora This must be the place Essere burleschi Essere dotati Di umorismo E anche Di qualcosa Come sostenuto Dal pacino Nell'avvocato Del diapolo Che lascia le donne Essere fatte Dopo essersene fatte Un sorriso Da gioconde Da donne Che Furono depresse E Poi Risero A loro essere soddisfatte In modo Godulioso Ok Non sono un uomo lusurioso Però sono un uomo Portendoso Sì Ne so una più del diavolo Possiedo Posseggo Un certo Diciamo Fascino Da faccia di culo Lascio penna Bologna A proposito Di belle donne Dicono Visto quante penne Ci sono lì Queste non sono penne All'arrabbiata Ma sono Granelli di riso Del mio sorriso Che fu smarrito E l'è stato ritrovato Lungo Le vie Del mio pensare Bello E del mio Risplendere In modo Perfetto Allineato Alla mia Giocondità E alla mia Beltà Insoprimibile Irreprimibile Sono un uomo Inarrendevole Irredimibile Io pecco Sono un peccatore E poi Di nuovo Sbagliare Sarà Il verbo Da me preferito Perché Sbagliare umano Perseverare Diabolico E quindi Amo anche Totò Diabolicus Totò Il re di Roma Alberto Sorte Qual è il lago Più grande D'Italia Lo dice Angela Parole Il lago Maggiore Il lago Maggiore Il lago Più grande D'Italia È il lago Alla fine In questo film Sean Penn Fa il paliatone Al nazistone Diciamo che gli fa il culone Salve amici Fratelli Della congrega Mi appella a voi Sempre così Allora Qui Ricordi Da rivivere oggi Su facebook Ammazza che faccia Da debosciato Con questo Cappellino Strampalato Versone Jackie Brown Un po' misera Mi accorgo Che questa persona Conosco dal 2018 Realizzava Massime miniature Poi abbiamo litigato Descore Litigato Allora Proposi ricordi This must be the place Io lo vedi al cinema Space cinema Ove non proiettano Stranamente Pensavo Dovesse avere Una distribuzione Diciamo così Più capire Pillare È stata la mano Di dio Internazionalizzato In the end of god Lo vedi Non era un periodo Bellissimo Ma io ho trascorso Anche dei momenti Bellissimi Negli ultimi anni Sebbene qualche Malingua Diciamo Voglio obiettare In merito E mi piacque molto Questo film Non lo Rividi più L'ho rivisto Ebbene In concomitanza Con l'uscita Nelle sale italiane Dell'ultimo Opus Di Paolo Sorrentino Ovvero È stata la mano Di dio In arrivo su Netflix In data 15 dicembre Imminente Quindi Dieci giorni Prima di Natale Per il periodo Natalizio Un film Che diciamo E ci pare Questa è l'occasione Migliore Giusta E pertinente Per andare A ripescare Una delle pellicole Giusta appunto Firmata Nel nostro premio Oscar Per la grande bellezza Poi l'Oscar Si dice premio Oscar Oscar Miglior film straniero Che poi viene assegnato Comunque Più affascinante E forse controverse Della sua già assai brillante Filmografia imponente Fortemente Indiscutibilmente Autoriale Cioè This must be the place La pronuncia Non è corretta Non è da Cambridge Da Allora Vuole la pronuncia Ok This must be the place Sì Io conosco l'inglese So cantare meglio Di Robert Smith Avete capito L'allusione Per questo Ciò This must be the place È una pellicola Quella Della cura Di Battiato Di Cure Ecco Della corposa Ma fluida Assai scorrevole Durata Di due ore Nette Complimenti Complimenti Lei è retto Con sua moglie Due ore Ah no Il film Vabbè Il film Cioè Allora Minuto più Minuto meno Comunque Distribuita Dalla Medusa Il film Che insomma Sua moglie È la biglia Una piovra Esattamente Una decada fa Quindi nel 2011 2011 È chiaro Allora Accolta favorevolmente Della critica Molto amata Dal pubblico Scusate Devo digerire Il pranzo E stavo ruttando Ecco qui Sta di nuovo La mia vita Ruttando This must be the place Rappresenta Ora Facciami seri In ordine cronologico La quarta opera Di sorrentino Arrivata Precisamente Due anni prima Rispetto allo Scrizzetto E succitato Su Sopra Cioè Prima Allora Il pezzo Scritto Ma in questo Recitato Vi ho citato Allora Film La grande bellezza Direttamente dopo Il suo sfolgorante esordio L'uomo in più 2001 Le conseguenze Dell'amore 2004 L'amico di famiglia Che vide nel 2006 Quando vincemmo I mondiali Non gli europei E anche Quello fu un periodo Diciamo E l'ha clamato Il divo Del 2008 Ok Quest'ultimo Ha presentato Attenzione Please Al festival di Cannes Quando a presiederne La giuria Fu niente Po po di meno Che Totò No Champagne Il quale Assieme agli altri Membri giurati Champagne vinse La coppa Volpi E fu premiato Per lo meno Annunciato Come vincitore Quando vinse Per bugie Baci Bambole Bastardi Era quello Per 21 Grams Vinse entrambe le volte Complimenti Però non fu Un candidato All'Oscar Vinse poi Per Misty Crivel Milk Proprio 2008 2009 Vabbè Comunque Da Silvio Orlando A vid Champagne Champagne Ma vada a fare Il pasticcere Etroschista Silvio Lei è un attore Che presenta Un grande attore Così Ha vinto La coppa Volpi Champagne Champagne E dove siamo Al mercato Ortofrutticolo Dai Allora Niente po di meno Che Champagne Il quale Assieme agli altri Membri giurati Durante tale edizione Della cannense Kermes Decretò la vittoria Dalla Palme Adr Assegnandola Alla classe Firmato Da questo Laurent Cantet L'Oscar Forse altri Sì Immaginandolo Con Il Grand Pepe Jury Price In modo Chi? Judy Dance No Già Ebbe modo Di approfondire La conoscenza Dietro le quinte Di Sorrentino Visionando inoltre Per l'appunto Premiando E qui C'è una scrittura Falotica E' eccezionale E così come Dallo stesso Successivamente Dichiarato Apprezzandolo parecchio Infatti Neanche a farlo apposta Fu Champagne Il protagonista Di This Must Be The Place Il quale di buon grado In seguito All'oporazione Del divolo E alla Conse Cosa? De conseguenze No Alla conseguente Consequenziale Diciamo Sua ammirazione In merito Disumiamo Facilmente Che si persuase Maggiormente Di lavorare Con il nostro Sorrentino Che a sua volta E per la prima volta Nella sua carriera Diresse Un internazionale Divo D'oltreoceano Con esiti Lusinghieri E decisamente Soddisfacenti Vi sta soddisfacendo Che cosa Questo rapporto No Questa mia recitazione Non va bene Allora Miglioreremo È chiaro Migliorate sempre Avendogli di fatti In partito Una direzione Attoriali Voi avete bisogno Come Rocky Di un manager Che vi istruisca E vi indirizzi È chiaro Così come Prossimamente Sottolineeremo Veramente Degno di notte Perché Alle prossime elezioni Mi candiderò Io Vota Toto Vota Vota il fallò E non lasciandosi Italiani Niente affatto Intimidire Dalla forza Carismatica Di un attore Difficile Stranir E rilevante A livello mondiale Qual è Sean Penn Famoso peraltro Per i suoi frequenti Scontri sul set Con vari registri Con cui collaborò Celebri Infatti I suoi litigi Avvenuti con Woody Allen Sul set di Celebrity Celebrity No no Accordi e disaccordi Siamo d'accordo Su questo E allora Controllate E vedrete E vi accorgerete Ravviserete Che non mi sbaglio In merito E Oliver Stone Voi invece Non rivedete Ravvedete mai Le vostre posizioni E quindi Non c'è mai Una In versione di marcia Nei vostri ragionamenti I understand Allora This must be the place You understand Matthew McConaughey Questo deve essere il posto No Coscritto da Sorrentino Insieme a Umberto Contarello A partire da un soggetto personale Dello stesso Sorrentino Fu anch'esso presentato Alla pare del divo In concorso al festival di Cannes Non vincendo però Nessun premio Ma allo stesso tempo E come sopra Detto Totto Ricevendo comunque Ottime critiche Aggiudicandosi Ben sei David di Donatello Fra cui quello Sono sei Sette Nani sono sette Chiaro I premi qui sono sei Ma non c'è due senza tre Quindi Non c'è due senza sette No no Non c'è stato il settimo premio Che vuole Fra cui quello per la regia E quella andata la canzone If it falls It falls Allora se qualcosa può andar male Lo farà La legge di Murphy No 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 Vabbè Allora A cura di David Byrne Poi abbiamo David Bowie Gabriel Byrne L'attore L'attore E anche Quell'altro Peter Gabriel Così Shock the monkey E Will Gary Oldman No Hold them E a proposito di Burn This must be the place Native melody E anche il titolo omonimo Di una canzone del celeberrimo Suo gruppo musicale Gli oramai scioltisi Talking heads Talking heads E ora acceleriamo Sennò questo pezzo Non finirà più Ho ho Sì in passato Fui Diciamo un grande cantante Un tenore Mezzo soprano Diciamo Diciamo che stavo spesso Sul divano Così Con le gambe a cavalla Tutto stravaccato Allora trama Lo strampalato Buffo e creaturale Cheyenne Pen Un tempo Cheyenne Che sa di nome indiano No Quindi La penna No 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 Un tempo fu Adesso io sono una grande penna Sì 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 E quando Vedo una bella donna Come dicono a Bulagna E lì divento Diciamo un po' prosaico Nonostante La mia prosa Diciamo spesso elegante Diciamo un po' volgare So smell Che penne Che è lei Allora un tempo Fu una rockstar glam Glam Sì sì Quella è buona È molto buona Sì 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 Quella Ma fa anche del nude glamour Di buon successo Oggi invece è un pagliaccio Sì 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 Di mezza età Che ancora pateticamente Si trucca Come se stesse ancora sul palco Delle sue ex esibizioni canore Però Un pagliaccio che Si trucca Ma strucca E poi vediamo Il cattivo Cioè è sempre un cattivo Sì 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 Vivacchiando la giornata Vivendo privatamente Con l'altrettanto strambe lunatica Sebbene rispetto a lui Ben più normalizzata E rispetto a lui Pi' oscarizzata Sì sì Perché Sean Benavid Due oscar Jane Frances McDormand Tre Quali sono? Quali sono? Mi vuole interrogare? Ho detto non c'è due Senza tre Allora dicevo No Allora sono Fargo Il secondo E qui ci vuole La pronuncia Del titolo originale Da Cambridge Tribal boards Outside Abing, Missouri Tre manifesti Abing, Missouri È chiaro? E Nomadland Io sono immisurabile Il mio talento È ingommensurabile You understand? Allora Cheyenne spende Pigramente Pigramente Le sue giornate Spesso abuliche Malinconiche Alla falotica Passeggiando Da perdigiorno Con una giovanissima Sua amica di nome Mary Che lui spera Di salvare Dal pessimismo Esistenziale E dalla sua prematura Indole nichilistica Non nichilista Che dir si voglia Romantica Sì però Forse è già troppo Disillusa Della vita In modo triste Socio che tristezza Nel frattempo Gli giunge notizia Che suo padre Molto anziano Sta morendo Il padre risiede A New York Cosicché Cheyenne decide Immantinente Di mettersi in viaggio Per andare a trovarlo Potevo scrivere Per andare a trovarlo Ma qui Per andare a trovarlo Ecco Purtroppo Si accognerà presto Scioccato E atterrito Che suo padre È già perito 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 tecnico Ha fatto l'istituto tecnico Mercele Ragioniere No è già defunto Scoprendo Forrester No per di più Che il padre Comunque ha vinto Per un film di Gets van set Milk No Scioccato Che il padre Si diede anima e corpo Alla ricerca Di un terribile ex ufficiale Nazista Che ai tempi Della sua prigionia Nei campi di concentramento L'umiliò E perennemente aggariò Tormentandolo Oltremodo In modo disumano E vile Alla faccia Si crede un uomo virile Ma è solo Un biglietco Cheyenne Si vendicherà Dell'umiliazione orribile Commessa A suo padre Contro suo padre Vittima della fiera Delle atrocità Più imperdonabili Aberranti Ci sono uomini Che sono vittime Delle fiere Sì 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 Si vanno Da una fiera all'altra Non lo so Sì sì Sanno lì In zona fiera In zona fiera Fieri fra l'altro Di essere dei venditori Degli imbonitori Non lo so Bella fotografia Di Luca Bigazzi Sti cazzi Un casto eterogeneo Oltre ai menzionati Vì Sean Penn In forma strepitosa La solita eccellente McDormand Fa la sua porca figura Il compianto Harry Dean Stanton In un cameo Al bacio Nei panni Chi è Harry Dean Stanton Ma lei non sa niente Come chi è Quello di fuga Da New York Che ha lavorato Spesso con Garpenter E soprattutto Con David Lynch Ma scusi Lei è un ignorante Si informi In merito alla sua ignoranza Nei panni Dell'inventore Del trolley Trolley Robert Platt E si fanno notare Le presenze Di questo Quello di Joker To Detective Che è il predicatore Quello di un sacco Di stronzetti Tiene buona la gente Cioè Jude Il ruolo Inizialmente Su Production Weekly Mi informavo parecchio Ma ancora Fu scritto E fu domandato Proprio alla produzione A Sorrentino Che doveva essere interpretato Dato che sono nati Lo stesso giorno Poi sono amici Non siamo angeli Della stra Hollywood Poi Sean Penn doveva dirigere De comminio De Niro No Non c'è No no Questa è una chiacchiera Messa in giro Cary Conan Della sublime Qui la pronuncia Va a puttano Diciamo All when For forever Che Oltre naturalmente All'apparizione Dello stesso David Bowie Bowie No no David Byrne Colorato Fantasioso Inquietante Magistrale This must be the place Mescola Con garbo E delicata Levità Amabile La pura poesia Incantevole Alla magnetica Potenza scenica Di un superbo Sean Penn Anche in versione Anomala Da uomo purissimo Una messa in scena Di finissima Scuola cineastica Veramente Riguardevole A qualche difetto A volte infatti Pecca di alcune Ridondanze stilistiche Non necessarie Come i miei scritti A volte troppo Ridondanti E questo mio spirito Flamboyant Diciamo E lungo i suoi 120 minuti Si perde in pause Ed estetizzanti Parentesi digressive Che se non sbriciola Che Virgola Se non sbriciolano Ne intecchiano La sua ipnotica Maleante compattezza Visivo Diecetica In più punti Comunque gli fan perdere Anche qui Potevo scrivere Gli fanno perdere Invece gli fan perdere Sensibilmente Quota Visibilmente Le piace? Questo mio Averbizzare Ecco Riprendendosi Però in modo Fiammeggiante In un finale Altamente emozionale Emozionante E commovente Da pelle d'occa E stupefacente Vi è piaciuta Questa recensione? Vi pare buona E brillante E brillantissima? Non va bene così? Non è piaciuta? E allora Perché mi ha ascoltato Fino a questo punto? Se lei mi ha ascoltato Perché io L'ho intrattenuta Come un grande film È chiaro? Ciao 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 Alla prossima